La sai una cosa Viviana? Come scusa? Impara a controllarti Modesto Perché se no che fai Viviana? Sentiamo Devo dirti una cosa E' incinta? No! Andiamo in terapia Io mi sentivo già padre Modesto non prova quello che provi te, questo è chiaro? Io e Modesto non siamo proprio sposati Non vedo dove sia il problema E ne fidanzati E ne conviventi Perché siamo amanti Amanti? Nel senso che siamo sposati però con altre persone Tu pensi che fare l'amore risolva tutto però? Che cosa c'è di così riprovevole in due amanti in terapia? Forse il fatto che siamo amanti anche noi Mi instilla dei dubbi solo per farla soffrire E tu che ne sai di questi mezzucci? Perché sono stato con una psicopatica, con più di una psicopatica Con me non me l'hai detto T'ho chiesto con chi tradivi tuo marito prima di stare con me Lei non ha prospettiva Ha paura dei progetti Io veramente non sopporto l'idea di renderti felice Ha paura dei desideri Io non voglio vederti mai più Se mi riferisco a Viviana chiamandola la sua compagna Posso chiederle cosa prova quando mi sente pronunciare queste due parole? Non siamo figli delle stelle Senza storia e senza età Ero di un sogno No ma profuma tipo di donna Tipo un'amica mia dell'università L'esame di diritto privato come va? A pasto a lettere Da due anni Ecco chi trovi? Non sono figli delle stelle Ci incontriamo per poi perderci nel tempo Te ricco chi trovi? No 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 on No 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 Grazie a tutti.